Mauro, ma tu qui a Bracciano con una vista così mozzafiato, guarda, una vista veramente mozzafiato, ti lamenti che vuoi tornare a Roma? Voglio tornare a Roma perché la provincia, anche se è un bel paese, può essere pure il paese piccolo. Cioè se voglio andare a fare passeggiato, però insomma è più pulito. È più pulito perché è più raccolto, è più raccolto, è un paesino piccolo. E' venuto Gasman anche qui? No, è venuto, che ne so, sono venuto io a Polito. Niki Giuseppe.it e Mauro Fortini, Bracciano. Vediamo nel frattempo le barchette lì giù in mezzo al lago. Niki Giuseppe.it